con la ripresa delle attività della scuola anche le parrocchiano un pochettino rimesso in moto tutto ed è bello trovare questo vangelo in questa settimana all'inizio di questa settimana così impegnativo eppure così liberante è una pagina particolare del vangelo di luca una sezione che chiamata apocalittica in cui gesù utilizza un linguaggio un po barocco molto costruito molto fatto di immagini quindi va preso con prudenza e delicatezza e sostanzialmente gesù parla di una fine di una venuta di qualcosa che va a compimento e tutti noi subito pensiamo alla fine del mondo magari con questi film di serie b un po catastrofici lasciate stare nulla del genere la comunità di luca sta dicendo viene signore gesù maranata viene in mezzo a noi ma il signore viene esattamente quando meno ce l'aspettiamo nella quotidianità quando facciamo le nostre cose andiamo in ufficio siamo sulla metro andiamo a scuola oppure siamo in casa quello è il momento in cui il signore ci raggiunge tutti noi a dirci speriamo di non essere presi no speriamo di essere presi come dire la venuta del signore che ci sarà nella pienezza e la fine dei tempi in realtà si realizza già per ciascuno di noi qui adesso non qualche anno fa quando siamo diventati credenti ma in questo momento in questa giornata in questo inizio settimana il signore viene e poi troviamo questa frase bellissima che secondo gli studiosi è una delle frasi che gesù ripeteva di più quello che viene chiamato la parola assoluta certa certamente pronunciata dalle dalle labbra del signore chi perde chi chi dona chi fa agli altri dono della sua vita la ritrova che bello iniziare e riprendere il ritmo consueto con questa consapevolezza il signore viene della nostra quotidianità il signore ci chiede di donare la sua vita come lui è saputo fare per amore ovviamente grazie a tutti Grazie a tutti.